Sant'Arnolfo Nato verso il 582 da nobile famiglia, fu educato nel palazzo del Duca Gandolfo e da questi avviato alla carriera amministrativa. Sposò una donna dell'alta nobiltà, Doda, dalla quale ebbe due figli, Ansegiso e Clodolfo. Benchè laico, venne eletto nel 614 vescovo di Metz. Durante il suo mandato si dedicò all'assistenza dei lebrosi. Turbato dal pensiero di aver sottratto gli anni migliori a Dio, si narra che Arnolfo abbia gettato il suo anello episcopale nella mosella. Tempo dopo, un pescatore pescò un grosso pesce, nel cui ventre fu trovato l'anello, oggi conservato nella cattedrale di Metz. Morì nel 640, ad Abend, dove si era ritirato in eremitaggio. Le sue reliquie sono conservate nella cattedrale di Metz.